Vince nella categoria Senior Professional il denome messicano Rodrigo Cusino. Il segno è il premio, forse alzate il profetto di segna, Fernando Guida. Ecco la coppa. Anche questo è un modo per il suo lavoro del territorio, per questi dati di libri, quelli di continenza, libri che parlano di storia locale e di cultura locale. Salutiamo ancora Rodrigo Cusino, digitale della Pacifica Senior Professional. Ci siamo, ci siamo, ci siamo.